Contro il Gubb, i primi 45 minuti, Maggi, ce l'ha detto Mr. Lerda, è d'accordo con lui? Sì, c'è stata una grande produzione di gioco, se una lacuna si può addebitare a Lecce è quella di aver mantenuto in partita fino all'ultimo istante gli avversari e questo chiaramente ha comportato qualche rischio in più. In Super Caglioni due parade fondamentali forse per questa vittoria del Lecce? Una molto evidente, l'altra che si è notata di meno ma è stata altrettanto determinante perché c'erano due uomini smarcati proprio davanti alla linea di porto e senza quella smanacciata probabilmente avrebbero segnato. L'elemento positivo è quello che un giocatore appena catapultato nella rosa ha risposto pienamente alle aspettative e questo è tipico delle squadre che vincono i campionati. Mr. Lerda dice di no, però come interpreta i due passi falsi di Frosinone e Perugia in vista di un possibile primo posto del Lecce? Lerda continua a predicare la cautela e fa bene dal suo lato però è innegabile che il Lecce abbia un campionato in discesa almeno fino ad aprile. Poi le ultime tre al momento sono in partite non decifrabili perché bisognerà vedere come arriveranno le squadre che dovrà affrontare a quelle partite. Il calo c'è, una squadra che perde due partite fuori casa a Ponte d'Era ma soprattutto a Barletta contro una squadra che ha motivazioni molto affievolite. Parlo del Frosinone, non si può non dire che non stia accusando un calo. Ora bisognerà vedere se questo è un calo episodico oppure se è una condizione che strutturalmente è andata peggiorando e in questo caso le prospettive per il Lecce ci saranno. Adesso c'è l'Ascoli, che partita sarà un pronostico? Beh, all'apparenza è una partita facile perché l'Ascoli non ha motivazioni per venire a fare una partita molto molto intensa. Però è chiaro che poi il campo è sempre quello che esprime i perdetto. Grazie a tutti.